Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Sono Freshlining e oggi vi voglio fare una video recensione Sulla sbarra che ho ordinato della Spartaco Vi dico già che ancora non l'ho montata E infatti farò un altro video dove vi mostrerò che la monterò Ho deciso di montarla nel balcone qua di fianco E oltre alla recensione sulla sbarra la farò sugli anelli Che avete visto nella storia la settimana scorsa Già ve li dimostro così La presa direi che è molto buona Specialmente anche perché è fatta in legno Di diametro è di 28 mm Questo anello è proprio quello che assomiglia nelle gare di ginnastica artistica E che vi posso dire erano due mesi di quarantena Che stavo aspettando tutti questi attrezzi per farmi la home gym E finalmente il mio sogno si avvera Poi inoltre una volta montata la sbarra Farò anche un piccolo test per vedere se regge bene Ovviamente userò la resina chimica per fare l'effetto del cemento armato Perché il mio muro siccome non sembra tanto resistente Che se bussi si sente pure che è leggermente vuoto Non proprio a livello esagerato Però bisogna usare per forza la resina chimica E speriamo che la montatura sarà completata con successo E un'altra cosa finalmente potrò riassaporare il piacere di fare le trazioni Che veramente dopo due mesi è davvero straziante non fare le trazioni in verticale Può essere anche che sono migliorato a fare le trazioni Perché ho notato che facendo gli Australian Pull Up Riesco a toccare col petto la sbarra Cosa che all'inizio della quarantena non riuscivo a fare Eppure non mi aspettavo neanche che sarei migliorato comunque stando anche a casa Perché in qualche modo mi sono arrangiato Quindi infatti le parallele che avete visto nel mio primo video presenza Avendole ordinate circa un anno fa Sono stato molto molto fortunato E poi chi se lo sarebbe mai aspettato Che sarebbe arrivato questo virus a metterci in difficoltà Bene direi che ho detto tutto Passiamo al prossimo video della montatura Passiamo al prossimo video 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 Ciao ragazzi Passiamo al prossimo video Passiamo al prossimo video